La bisogno della ricerca della prima vittoria in campionato fino ad ora non ha raccolto per quanto seminato. In trasferta ha perso le due partite finora disputate. A Melani ha parigiato contro Siena e Sant'Arcangelo. Domenica prossima gli arancioni giocano ad Aprilia contro la Lupa Roma che nello scorso turno di campionato ha messo il primo punto in classifica. Negli arancioni non ci saranno ancora per questa settimana Lusicco e Merini. E' una partita importante. Sia noi che loro fino adesso abbiamo avuto poche soddisfazioni dal campionato quindi cercheremo di riscattarci domenica. Voi giocate bene ma raccogliete poco. Perché? Questa è una domanda interessante, difficile dare una risposta. Certamente siamo stati anche poco fortunati fino a qui e nel calcio delle volte gli episodi risultano decisivi e fino a questo momento ci sono sempre girati contro. Speriamo e cercheremo di invertire questo trend. Noi analizziamo sempre le partite quindi cercheremo all'interno dello spogliatoio di capire i motivi e di venire fuori da questo momento in cui non riusciamo a ottenere i tre punti. Che cosa ti danno queste prestazioni a mezzo servizio? Si entra a partita in corsa? Si esce? Fino a questo momento ho avuto lo spazio che il mister mi ha concesso quindi cercherò di meritarmi più spazio da qui in avanti comunque fino adesso diciamo che sono ancora poche partite di campionato, c'è tutto un campionato ancora da giocare.